Oggi rasoi multilama Buongiorno signori, benvenuti in Roba da Uomini, io sono Alessio In questo video volevo darvi il mio parere, siccome ne ho provati tanti negli ultimi anni di multilama volevo darvi un piccolo parere sul quale magari basare eventuali ragionamenti futuri se state pensando di cambiare il vostro rasoio oppure se state cercando anche solo una conferma e vedere che cosa utilizzo io partiamo subito con il rasoio che si trova in terza posizione il rasoio in questione è il Gillette Mach 3 io posso dire che ho cominciato a fare la barba esattamente con questo rasoio a distanza di qualche tempo dall'uscita del Mach 3 uscì il Mach 3 Turbo ed essendo praticamente identici ho avuto anche occasione di provare le lame del Mach 3 Turbo la cartuccia di questo rasoio ha 3 lame e sopra ad esse ha la barra emolliente quando ho cominciato a farmi la barba con questo rasoio una lametta mi durava anche per 2-3 settimane perché comunque non la facevo tutti i giorni e poi più che barba erano piume di pulcino quando ho cominciato a radermi tuttavia negli anni si è comunque difeso bene tant'è che fino a 5-6 anni fa utilizzavo ancora questo rasoio insomma ad oggi sono quasi 20 anni che ce l'ho con me fortunatamente continuano a fare le ramette e sto utilizzandolo ancora perché ogni tanto mi piace cambiare il tipo di rasatura la differenza ovviamente in base alla quantità delle lame si sente ma poi vedremo meglio quando arriveremo alla posizione numero 1 vi farò capire magari qualcosa in più nel complesso questo è un rasoio abbastanza buono devo essere sincero ce l'ho da così tanto tempo che se avesse anche solamente un lato negativo non l'avrei tenuto così tanto l'unica cosa che posso pensare che non mi piace tantissimo è il fatto che le lame non arrivino proprio al termine alla fine della cartuccia ma lasciano dei bordi abbastanza ampi che quando vado a fare la passata purtroppo mi tolgono la schiuma da barba anche laddove non radono inoltre radendosi nel senso del pelo prima di arrivare a tagliare c'è una piccola barra con delle lamelle che preparano il pelo alla rasatura quando si fa il contropelo queste tendono ad alzarlo e quindi aumentano le performance in quella che è la passata del contropelo a di là dell'aspetto affettivo che posso avere verso questo rasoio comunque si è sempre comportato molto bene negli anni ha sempre fatto il suo dovere e purtroppo non l'ho messo al primo posto perché mi rendo conto che nell'arco del tempo la mia barba è cambiata e avendo fatto anche altre esperienze con altri rasoi mi trovo meglio con altri piuttosto che con questo però questo comunque rimane uno dei rasoi più validi che a mio parere ci sono sul mercato alla seconda posizione un gradino sopra quello che è il nostro mac 3 io ho messo il bulking non voglio entrare nello specifico delle scelte marketing di questa azienda quello che è tutto il programma di assistenza io voglio parlare solamente del rasoio in questo momento come è fatto e andiamo a vederlo nello specifico dati i materiali che sono prevalentemente plastici è una plastica molto leggera è molto maneggevole si tiene in mano abbastanza facilmente anche grazie alla sua forma affusolata e non essendo pesante è facilmente manovrabile tutto il sistema che sostiene la testina è una semplice stampata di plastica quindi non ci sono molle non ci sono parti mobili e quando si deve cambiare la testina almeno nel mio in particolare ma credo che tutti siano così bisogna fare particolare forza sia per inserire quella nuova che per togliere quella vecchia parlando della cartuccia invece nella quale sono inserite le lame vediamo che ci sono inserite solamente 3 lame e non ci sono barre emollienti o lubrificanti o cose di questo genere è molto spartano costa poco e per pro c'è da dire che effettivamente taglia molto bene il pelo ma anche subito al primo passaggio inoltre la cosa che mi piace è che la prima lama che all'interno della cartuccia è quella che praticamente si trova più in alto è molto vicina al margine superiore per cui tutte le zone che richiedono una precisione maggiore sono facilmente raggiungibili anche con questa testina ad esempio la parte sotto del naso è sempre un po' capricciosa da radere con questo rasoio si riesce ad arrivare anche in quei punti lì un piccolo valore aggiunto inoltre è una ventosa che si può attaccare al nostro specchio in modo tale che il rasoio può rimanere grazie a un foro nel suo manico attaccato alla ventosa sul nostro specchio io non lo tengo lì perché purtroppo utilizzandolo tende anche a causa della schiuma a diventare bianco insomma non è un bello oggetto da vedere almeno a mio parere io non tengo i rasoi tutti lì in bella vista poi è attaccato allo specchio a maggior ragione se abbiamo ospiti comunque può essere una cosa non proprio bella da vedere tuttavia se non avete particolari esigenze se magari avete due bagni e ne avete uno di servizio questo può essere molto veloce come azione devo farmi la barba arrivo, prendo la schiuma tac e sono pronto un'altra cosa che è negativa non direi proprio negativa però diciamo che non è di certo un pro è che purtroppo data la natura della tecnologia che viene utilizzata quindi proprio la modalità di costruzione della cartuccia la cartuccia non si muove proprio in una maniera leggera ha bisogno di un po' di pressione per adattarsi al nostro volto cosa che peraltro si è liberi di fare non è necessario che si faccia tanta pressione per tagliare il pelo comunque va applicata una certa forza se si vuole avere la certezza che la lama aderisca perfettamente al nostro volto in alternativa come faccio io si lavora di polso bene abbiamo visto i primi due rasoi e adesso arriviamo alla prima posizione nella prima posizione ovviamente chi mi segue da un po' avrà già immaginato che cosa c'è c'è il Fusion io ho sia il Fusion normale che il Fusion Pro Glide che è quello con la sfera sinceramente la sfera non è che migliora così tanto le performance di questo rasoio però devo dire che la cartuccia si difende molto bene qui troviamo 5 lame una sopra l'altra e prima delle lame c'è una barra emolliente e dopo le lame c'è una barra lubrificante con questa cartuccia devo essere sincero mi basta una passata una passata e mezzo per essere a posto il contropelo lo faccio giusto perché io voglio essere completamente liscio quando mi faccio la barba una cosa mia in questa cartuccia l'unica cosa che c'è di negativo è che anche in questa cartuccia abbiamo delle parti laterali abbastanza importanti quindi le lame non arrivano proprio a filo del telaio della cartuccia ma comunque poco male perché più o meno la stessa distanza che c'è in questa c'è anche nel Mac 3 oltre alla prima barra quella emolliente c'è anche una specie di micro pettine che serve per separare bene eventuali nodi dei nostri peli se abbiamo la barba un po' diciamo così indisciplinata o leggermente lunga vedete va bene adesso è un po' usato però questa è una lama che può essere utilizzata per arrivare in quei punti che dicevamo non essere troppo raggiungibili troppo accessibili quindi appoggiando questa lama sulla pelle in questo senso possiamo anche tagliarci i baffi dove c'è l'attaccatura del naso sicuramente non è il rasoio più leggero che abbiamo preso in considerazione oggi perché ha un discreto peso però si sente bello presente in mano si riesce anche ad avere una certa agilità durante la rasatura bene signori questa è la mia piccola classifica dei miei tre rasoi preferiti e sono sicuramente i tre rasoi tra i quali sceglierei quello da portarmi in un eventuale viaggio ovviamente se mi seguite da un po' avete visto che ne ho provati anche altri però questa era la mia top 3 per cui non avrebbe senso continuare anche con gli altri signori come al solito grazie per aver guardato il video fino a qui grazie per essere arrivati fino a questo punto lasciatemi un like iscrivetevi se non l'avete ancora fatto ci vediamo al prossimo video arrivederci signori